Buongiorno da BTV News. Oggi 23 agosto è Santa Rosa da Lima ed è la giornata mondiale contro la schiavitù. Nel 1997 l'UNESCO ha proclamato questa giornata per la commemorazione della tratta di esseri umani e anche dell'abolizione. Si pensi solo che all'interno della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo siglata nel 1948 viene proibita qualsiasi forma di schiavitù. La prima volta viene celebrata ad Haiti il 23 agosto del 1998 e in Senegal nel 99. Nonostante ciò ancora oggi molti bambini in giro per il mondo vivono in pessime condizioni. La prima rivolta contro la schiavitù guidata da Toussaint-le-Verture, il primo generale di colore della storia, fu un evento unico. Negli anni di questa giornata arrivate in molti stati di pari passo anche con la consapevolezza acquisita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.